Anche 400 bambini vaccinati a Udine saranno sottoposti a controlli, Emanuela Petrillo ha infatti sporadicamente operato anche nel capoluogo friulano, le strutture sanitarie contatteranno le famiglie. E lo scandalo delle ultime settimane riaccende vecchi dubbi di alcuni genitori, anche quelli della mamma e del papà di un neonato di Udine morto a 4 mesi, 10 giorni dopo la vaccinazione, presentato un esposto in procura. Giuseppe Morandini, già alla guida della Cassa di Risparmio FWG e il nuovo presidente della Fondazione Friuli, è stato nominato oggi dal Consiglio di Amministrazione e succede a Lionello D'Agostini. Presentata oggi la tredicesima edizione della mostra internazionale di Leggio, dal titolo Amanti, simbolo dell'esposizione Amore Psiche di Canova, ci saranno anche tre opere mai viste prima nel nostro paese. So che in molti non sono d'accordo con me, ma io investirei subito su Zapata, mi piace moltissimo come attaccante, parola di Maurizio Ganza, Udine per presentare il suo canto e intervista a Bianconero. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Scoppiato a Treviso, lo scandalo vaccini ha poi investito anche il Friuli. Prima il medio Friuli, poi il collinare e ora tocca anche Udine. 400 bambini dovranno essere sottoposti a controllo, questo perché Emanuela Petrillo sporadicamente ha operato anche nel capoluogo friulano. Saranno le strutture sanitarie a contattare telefonicamente i genitori dei bambini coinvolti. Il fronte del caso legato alle mancate vaccinazioni nell'ambulatorio di Codroipo si estende anche a Udine coinvolgendo 400 bambini che dovranno essere sottoposti a controlli. Gli stessi hanno infatti avuto contatti con Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria accusata di non aver somministrato le dosi di vaccino obbligatorio a migliaia di persone tra Friuli e Veneto e che ha lavorato sporadicamente a Udine in sostituzione di colleghi in ferie o in malattia. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, come ci ha riferito il direttore Giorgio Brianti, provvederà nei prossimi giorni a informare telefonicamente i genitori dei 400 bambini ai quali saranno somministrate, se necessario, nuove dosi di vaccini. Per quanto riguarda le indagini avviate dalla magistratura, riferisce Brianti, i prelievi si effettuano su bambini della stessa età vaccinati dalla Petrillo e da altri operatori sanitari che hanno usato vaccini dello stesso lotto per mettere a confronto i risultati. Diverse persone coinvolte nella vicenda, continua Brianti, sollevano perplessità sulla mancanza di controlli al momento della somministrazione dei vaccini. Nel 2000 è entrata in vigore la normativa che attribuisce responsabilità alle professioni sanitarie che una volta erano considerate ausiliarie. Pertanto gli operatori, dagli infermieri e fisioterapisti, hanno piena autonomia nelle prestazioni e non è necessaria la presenza del medico che oggi ha tre funzioni specifiche. Rispondere ai genitori che vogliono avere un colloquio con lui, sciogliere eventuali dubbi e intervenire in caso di reazioni avverse. Lo scandalo fa riaffiorare vecchi dubbi, magari sopiti per anni. Così in questi giorni i genitori di due bambini hanno presentato altrettanti esposti alla procura di Udine. Il primo caso riguarda una bambina che avrebbe contratto la varicella nonostante fosse stata vaccinata un anno prima, mentre il secondo si riferisce ad una morte bianca avvenuta nel 2010. La vicenda legata alla problematica delle vaccinazioni ha alimentato i dubbi di diversi genitori. Negli ultimi giorni sono stati presentati due esposti alla procura di Udine. Il primo riguarda il caso di una bimba di tre anni che è vaccinata a Codroipo nel 2015 contro la varicella. Esattamente un anno dopo avrebbe manifestato i sintomi della malattia. Ne ha dato notizie allo studio legale Tutino di Udine, che oggi ha presentato un altro esposto legato al caso di una morte bianca avvenuta nel 2010 a Udine. Il neonato di quattro mesi aveva cominciato a star male dieci giorni dopo la somministrazione del vaccino, con febbre e arrossamenti in viso. Lo studio legale non può fornire ulteriori dettagli, essendoci segreto istruttori in corso e considerata la delicatezza degli stessi, ma fa sapere di voler nominare esperti per valutare ogni possibile aspetto legato alla vicenda. Non siamo ad accusare nessuno, spiegano all'ufficio legale, ma questo approfondimento ha lo scopo di avere maggiori elementi sulla possibilità di rivaccinare i bambini. Ennesima rissa tra migranti a Pordenone è accaduto domenica pomeriggio attorno alle 16, quando nella zona di Piazza Leroro, tra Piazza Leroro e Piazza 20 Settembre, due extra comunitari si sono presi a male parole. Ne è nata una violenta rissa a colpi di cinghiate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, oltre al personale del 118, che hanno soccorso uno dei giovani coinvolti nel pestaggio, l'altro si è dato alla fuga. Non è la prima volta che il centro di Pordenone diviene teatro di risse tra migranti. Episodi analoghi si sono verificati lunedì e mercoledì scorso, quando l'animata discussione ha coinvolto cinque extra comunitari. Torniamo a Udine. Giuseppe Morandini è il nuovo presidente della Fondazione Friuli. È stato nominato oggi nel capoluogo friulano dal Consiglio di Amministrazione. Succede a Lionello D'Agostini, che ha così concluso il suo secondo e ultimo mandato. Il nodo della Fondazione Friuli si è sciolto con l'elezione di un Consiglio di Amministrazione in gran parte rinnovato e con la nomina del nuovo presidente. Giuseppe Morandini raccoglie il testimone portato per due mandati e otto anni da Lionello D'Agostini. Nel giro di due settimane, quindi, si è ricomposta la frattura fra le due sponde del tagliamento, tradotta sì nella presentazione di due liste concorrenti. Due vicepresidenti, il pordenonese Gianfranco Favaro, riconfermato in questo ruolo, e la pianista udinese Flavia Brunetto, che assume anche la veste di vicario. Del Consiglio fanno parte poi Piero Capelletti, Maurizio Cini, Barbara Camperetti, Sergio Dell'Anna, Edgarda Fiorini e Flavio Pressacco. Morandini, fino a giovedì scorso, è stato presidente della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia. 58 anni, laureato in geologia, ha seguito per anni l'azienda di famiglia, attiva nel settore dei laterizi. Entrato in Confindustria fin da giovane, è stato riferimento per la piccola industria, prima regionale e poi nazionale, sedendo a Roma, in viale dell'astronomia, al fianco dell'allora presidente Montezemolo. Dal 2010, poi, ha assunto la presidenza dell'istituto di credito fino alla recente decisione delle dimissioni. Ora lo aspetta un importante compito alla Fondazione Friuli, già Fondazione Krupp, fresca del cambio di denominazione che intende emancipare l'ente dalla sua origine bancaria e indirizzarlo verso un ruolo sempre più incisivo nella vita sociale e culturale della comunità friulana. Col medesimo impegno con cui ha affrontato i suoi primi 25 anni di vita, ha commentato il presidente uscente D'Agostini, la Fondazione Friuli è ripartita, rafforzando la propria identità e il radicamento sul territorio. Allo stesso modo, il passaggio di consegne alla nuova amministrazione non incide sulla qualità della mission e non ne avrebbe inciso in nessun caso, poiché siamo animati dalla consapevolezza che ciascuna delle parti coinvolte nella nuova gestione avrebbe agito nel rispetto del senso etico, del ruolo della Fondazione e nell'interesse della nostra comunità. Estremo tentativo di salvare la Camera di Commercio di Pordenone. Stasera alle 20.30 il presidente dell'ente Giovanni Pavan ha chiamato a raccolta i sindaci del territorio per provare ad evitare un accorpamento con Udine già deciso per legge. All'avvocato Bruno Malattia il compito di illustrare una possibile via di fuga giuridico-amministrativa. Il destino della Camera di Commercio di Pordenone è in mano alla politica. Stasera alle 20.30 a Palazzo Montereale Mantica il presidente dell'ente Giovanni Pavan ha chiamato a raccolta i sindaci dell'ex provincia di Pordenone. Si aspetta una risposta forte e decisa dal territorio per evitare quella che vede come un'annessione forzata a Udine. L'accorpamento voluto dalla nuova normativa infatti va tutto in questa direzione, mentre la Camera di Commercio della Venezia Giulia è salva grazie a un emendamento, definito furbo, del capogruppo PD alla Camera Ettore Rosato, con il quale gli enti di confine vengono esentati dalla norma nazionale. Gorizia e Trieste un anno fa si sono messe assieme, giocando d'anticipo e mantenendo a braccetto la propria autonomia. La fine dell'ente pordenonese insomma rischia di essere molto vicina, anche se l'avvocato Bruno Malattia, che dall'ente camerale ha ricevuto mandato, stasera spiegherà i passaggi di natura giuridico-amministrativa per provare a salvare l'ente. E proprio su questo si concentra l'attenzione dei sindaci, che vogliono capire quanto si possa fare in concreto per evitare inutili chiamati alle armi, come già accaduto in passato per la provincia. All'appello a parole hanno già aderito molti primi cittadini e chi non potrà essere presente è stato invitato a mandare il documento firmato. Fa ripuntati inoltre sul vicepresidente della regione, Sergio Bolzonello, il quale si è sempre espresso per una Camera di Commercio unica in regione. E oggi non dovrebbe far altro che ribadire la sua posizione, anche se in materia la regione può solo dare un indirizzo politico al Ministero. Pochissime le possibilità che Pordenone mantenga la sua autonomia, scarse anche quelle del lente unico. La strada più probabile resta una fusione con Udine, ed è questo che a molti pordenonesi non va giù. Separazione delle carriere dei magistrati. La mobilitazione arriva anche a Udine con la raccolta di firme. C'è un banchetto in tribunale dove oggi si è anche svolta un'assemblea. Sentiamo. Una raccolta firme a livello nazionale per chiedere la separazione delle carriere dei magistrati italiani tra requirenti, ovvero chi ha l'incarico di coordinare le indagini, e giudicanti. E' questo l'obiettivo dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che nei giorni scorsi ha annunciato di aver raggiunto quota 10.000 firme contro le 50.000 richieste per una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare. Ed anche la Camera Penale Friulana ha seguito l'iniziativa, con un banchetto per la raccolta dei sostegni all'interno del Tribunale di Udine e con un'assemblea pubblica. Avvocato, quali sono i contenuti di questa proposta? Sostanzialmente si tratta di un'attuazione, l'articolo 111 della Costituzione che è stato approvato nel 1999 e sostanzialmente si prevede che vi sia una separazione delle carriere fra magistratura giudicante e magistratura requirente, che vi siano due diversi CSM, che vi siano concorsi separati e si chiede altresì, diciamo a corollario di tutta questa riforma, anche che l'obbligatorietà dell'azione penale venga regolata per legge. E quindi sostanzialmente si dà piena attuazione ai principi del giusto processo e del processo accusatorio che sono stati appunto introdotti dall'articolo 111 della Costituzione e secondo comma. Anche una raccolta firme a sostegno di questa proposta? Sì, perché noi abbiamo fatto questa proposta di legge costituzionale all'iniziativa popolare in tutta Italia, per cui raccogliamo le firme, ce ne occorrono almeno 50.000 per poterla presentare in Parlamento, ma speriamo di ottenerne molte di più. È stato presentato questa mattina il percorso dell'FVG Pride di Udine in programma il prossimo 10 giugno. L'arrivo del corteo sarà sul Colle del Castello. Anche una star internazionale ha voluto omaggiare il Pride. Ciao, sono i monstri, sono la Lady Gaga. Voglio solo dire grazie per invitarmi a la Friuli Venezia Giulia Pride e per tutte le persone che si organizzano. Grazie per l'invitazione, ma sono molto sorry che non posso arrivare. Sto mandando tutto il mio amore e supporto. Comincia così con i migliori auguri della star internazionale Lady Gaga e il trailer ufficiale dell'FVG Pride, a cui manca ormai meno di un mese. Un counter sul sito tiene conto dei giorni, ore, minuti e persino dei secondi che mancano al fatidico 10 giugno, quando per le vie di Udine sfileranno centinaia di appartenenti alla comunità LGBT. E non solo, perché, come è stato ribadito dagli organizzatori, il Pride è aperto a tutti. Il corteo studiato in accordo con la Questura e la Prefettura di Udine partirà da Via Leopardi e dopo aver attraversato le vie del centro, arriverà sul Colle del Castello. Perché abbiamo voluto, appunto, questo punto, a parte della sua bellezza che corona tutta la città di Udine, abbiamo voluto anche simbolicamente avere questa salita come metafora del percorso che stiamo facendo del riconoscimento della parità dei diritti in Italia, visto che l'anno scorso abbiamo avuto il primo traguardo con le unioni civili e adesso il lavoro sarà molto più duro. Dopo il primo step dobbiamo continuare e questa salita è una metafora che ancora c'è tanto da fare e sarà molto dura, ma alla fine ce la faremo. Il trailer, firmato da regista Thomas Wally Marcuzzi, mostra alcune cartoline della nostra regione, trasformate con qualche stereotipo che accompagna la comunità LGBT da sempre. Lo scopo, infatti, è non prendersi troppo sul serio, tanto che la stessa Lady Gaga è la bordenonese Francesca Lorenzon, sosio ufficiale della cantante americana. E le segreterie provinciali di CISA, l'FVG e UGLFP che rappresentano la polizia locale nell'Uti centrale hanno proclamato una giornata di sciopero proprio per il 10 giugno, giornata in cui è in programma l'FVG Pride. Al centro delle polemiche, l'indennità d'arma negata e la riorganizzazione di servizi ed orari. Lo sciopero minacciava di mettere in difficoltà la realizzazione dell'evento, ma gli organizzatori hanno assicurato il regolare svolgimento del Pride dopo aver parlato con Questura e Prefettura. E da oggi è attivo il canale istituzionale Instagram della regione Friuli Venezia Giulia che è stato presentato alla stazione marittima di Trieste nell'ambito di una giornata dedicata alla comunicazione non ostile rivolta alle scuole. L'obiettivo, ha spiegato la presidente della regione Deborah Serracchiani, parlando alla platea degli studenti, è di raggiungere con Instagram le persone alle quali diversamente non arriveremmo. La fotografia può essere lo strumento che stimola i cittadini, specie i più giovani, catturandone l'attenzione e l'interesse mediante un'immagine. L'avvio del canale Instagram completa l'attivazione dei canali istituzionali della regione sui social, dopo YouTube, Twitter e Facebook, dove la regione debuttò lo scorso febbraio proprio in occasione della presentazione del manifesto della comunicazione non ostile, vero e proprio decalogo di un'interlocuzione nei social all'insegna del rispetto. Le prime foto pubblicate su Instagram ritraggono i mosaici di Spilimbergo, che costituiscono una delle icone più note del Friuli Venezia Giulia. E un secondo fronte di scavo è stato aperto in questi giorni in piazza Garibaldi a Cividale, nell'ambito dei lavori di sistemazione della piazza. Non si tratta di un intervento imprevisto, ma di lavori programmati dalla soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in stretta collaborazione con il Comune per aggiungere ulteriori elementi alla conoscenza della città antica. Lo scavo ha permesso di mettere in vista una serie di murature di una casa, in uso almeno dal XIII secolo, che conferma l'esistenza di abitazioni demolite dopo l'età rinascimentale. Grazie agli scavi si è potuta rilevare la stratigrafia che caratterizza la storia della città dall'età tardo-romana all'età longobarda, fino alle successive costruzioni medievali, delle quali si vedono le innumerevoli fasi costruttive. Amore e psiche stanti di Canova è l'immagine simbolo della tredicesima mostra internazionale di Legio che aprirà i battenti domenica 21 maggio. Il titolo sarà Amanti, passioni umane e divine. Tra le opere protagoniste è appunto anche la scultura di Canova, ma in mostra ci saranno anche tre opere che arrivano per la prima volta in Italia. Ne abbiamo parlato con il curatore della mostra, Don Alessio Geretti, sentito per noi da Valentina Viviani. Il tema è Amanti, è un po' provocatorio quasi per una mostra religiosa, o no? Potrebbe sembrarlo, ma l'amore è la più importante realtà della nostra vita. Possiamo avere tutto, ma se ci manca l'amore la vita non ha senso. Poi è anche abbastanza evidente, a colpo d'occhio, che la nostra epoca sull'amore di coppia ha qualche problema e qualche confusione, quindi tornava utile ripercorrere i grandi racconti antichi, la grande meditazione della civiltà occidentale su questo tema e la splendida rivelazione cristiana che ci offre delle risposte bellissime alle nostre domande. Il percorso della mostra appunto è una meditazione, quindi le opere d'arte sono accostate in modo certamente da mettere in evidenza qualche parentela di forme, storie, botteghe, ma prima di tutto per analogia di messaggio che se contengono. Ci imbatteremo poi con dei grandi colpi di scena di bellezza. Tre opere che non si sono mai viste in Italia nella loro storia, una Venere Cupido di Artemisia Gentileschi, una Maddalena di Orazio Gentileschi e un'altra Maddalena di Bartolomé Esteban Murillo, ad esempio. Rimarremo avvinti dalle tre magnifiche opere di Antonio Canova, Amore e psiche stanti, una scultura stupenda, Endimione dormiente, un altro esempio del suo genio plastico e la pittura di Cefalo e Procri che ci fanno riscoprire il Canova pittore. E poi dalle tavole d'oro del 3 e del 400 toscano fino alle pitture del romanticismo influenzate dai pre-Raffaeliti come quelle di Ernst Klint, il fratello di Gustav, che sarebbe diventato non meno famoso di lui se solo non avesse avuto una vita brevissima. Insomma, in sette secoli d'arte spazieremo tra temi e suggestioni potenti. Una notizia di cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 16.30 a Udine, in via Molinuovo dove all'angolo con via Fusine una Fiat 500 si è scontrata con un autobus. Secondo fonti del comando provinciale di Udine, a bordo dell'auto vi erano due donne e una bambina che avrebbe riportato un trauma facciale. I vigili del fuoco hanno dovuto sbloccare le portiere dell'auto per liberare le tre persone rimaste imprigionate all'interno e consentire così al personale del 118 di poterle soccorrere. Avvio positivo per Sapori Proloco a Villa Manin. Il primo weekend della sedicesima edizione di Sapori Proloco ha visto numerose persone nel prato tra le esedre di Villa Manin a Passariano di Codroipo dove 38 Proloco hanno proposto 92 piatti tipici che con birra artigianali e vini del territorio fanno salire il menù a oltre un centinaio di referenze. L'inaugurazione ufficiale nella mattinata di ieri allo spazio incontri ha visto la serie degli interventi aperta dal presidente del comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia, Walter Pezzarini, che ha ricordato come questa sia una grande festa della tipicità della forte valenza turistica dove ancora una volta migliaia di visitatori potranno gustare le ricette più autentiche e caratteristiche della tradizione regionale. Tra le sorprese dell'inaugurazione è anche il passaggio della patuglia acrobatica nazionale. Le frecce tricolori hanno sorvolato la manifestazione di partenza e ritorno dell'erscio di grado alla vicina base di rivolto. Sono 33 gli eventi collaterali del ricco programma di Sapori Proloco, comprese mostre, convegni, musica e animazioni per bambini. La manifestazione proseguirà il prossimo weekend, partendo venerdì con lo spettacolo nel parco centrale Lo Sapevo, in diretta su Telefriuli dalle 20.45, la finale del gioco a quiz tra le Proloco di Povoletto e Dignano. Ventesima edizione per la tradizionale processione della Madonna della Pace di Battaglia a Ciconicco, accompagnato dalla banda di Madrisio, il corteo si è snodato per le vie del paese, facendo rivivere un'antica tradizione che era stata recuperata da un gruppo di amici nel 1997. Dopo diversi decenni, sono ancora tante le persone che desiderano partecipare all'evento, che nella seconda domenica di maggio vede l'intero paese sciogliere il voto alla Madonna della Pace. Un ritorno al passato, guardando però anche al presente, dove antichi simboli come i gonfaloni, gli stendardi appositamente rimessi a nuovo e le fraschie, salti archi verdi, si uniscono al gioioso vociare dei bambini, quasi cento, simbolo di un futuro vivo e pieno di speranza per le tradizioni del Friuli. In tanti hanno partecipato attivamente, dai portantini agli angioletti, tutti vestiti con le vesti tradizionali della processione paesana. Proprio l'essere attivi nell'organizzazione, afferma una delle organizzatrici, è servito ad essere ancora più uniti in paese, ha permesso una crescita spirituale all'interno della comunità che ora si sente più vera e più forte di allora. Ed ora la vignetta preparata per noi da Fernando Venturini. Siamo allo sport, so che in pochi sono d'accordo con me, ma io dico Zapata, è un attaccante che mi piace molto e farei subito un investimento su di lui per la prossima stagione. Parola di uno che di reti ne ha segnate davvero tante, Maurizio Ganz, a Udine per presentare il suo terzo camp che da quest'anno porta il suo nome e sbarcherà anche a San Daniele. L'intervista integrale sarà proposta questa sera a Bianconero in onda in diretta a partire dalle 21, sentiamone un'anticipazione. Bisogna ripartire dal basso, dai piccoli amici, dalle scuole calcio per poi arrivare al nostro settore giovenile che vada non a vincere ma che vada a portare i giocatori in prima squadra. Ti chiedo di scegliere un giocatore dell'Udinese che questa nota ha colpito e un giocatore del calcio italiano, possibilmente italiano nel quale non dico ti riconosci ma insomma ti fa che segui particolarmente. Ma che mi possa riconoscere no perché comunque i giocatori sono cambiati, il calcio dell'Udinese è cambiato, gli attaccanti sono cambiati. È un bene o un male? I giocatori come Inzaghi, come Ganz, come questi giocatori non ci sono più, sono totalmente cambiati. Io vado contocorrente perché quando io dico Zapata tutti dicono ma come Zapata a me piace come giocatore, mi piace come propone calcio, mi piace come si pone, dà sempre tutto, poi magari delle volte. L'investimento lo faresti, fossi in pozzo? Io sì, a me piace come giocatore. Ieri dolci parole alla stampa francese. Sull'Udinese è la società bianconera che mette al servizio degli atleti strutture e staff di primo ordine. Oggi l'annuncio del prolungamento del contratto che lega Fofanà, protagonista della citata intervista al club friulano fino al 2022. Sembra quasi un copione scritto e diretto a beneficio delle tifoserie del Friuli, reduce da una nuova delusione in quella di Crotone. Una buona notizia, quella della conferma di Fofanà, che fa bene all'ambiente in tempi di attesa e speranza. Il Franco Ivoriano, inizialmente accantonato da Iachini, è stata la scoperta di Del Neri, che non manca mai di sottolineare quanto il suo infortunio, il centrocampista è fuori da inizio marzo, abbia pesato nel finale dell'Udinese. Fofanà, ripreso da una decina di giorni ad allenarsi sul campo e non solo a parole, dimostra grande voglia di tornare in forma e ripartire, ormai la prossima stagione, da dove aveva lasciato quando ha stupito tutti per potenzialità e capacità. I Uve, Inter, Napoli e Big Inglesi lo dovranno quindi aspettare ancora. Una staffetta su due ruote che raggiunge il 18 maggio Monte Sant'Angelo a Foggia per ricordare le vittime della mafia, del terrorismo e di ogni violenza. I ciclisti che rappresentano il Friuli Venezia Giulia sono partiti questa mattina dalla foiba di Basovizza, luogo simbolo, e sono stati salutati dalla Presidente della Regione, Serracchiani. La Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha reso omaggio ai rappresentanti delle forze dell'ordine vittime delle foibe, partecipando stamane a Basovizza, sul Carso Triestino, alla cerimonia organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia in occasione del Memorial Day. La manifestazione è nata nel 1993 a un anno dalla strage di Capaci per celebrare le vittime della mafia, del terrorismo e di ogni forma di criminalità. L'evento si svolge in più parti d'Italia, con staffette di ciclisti che attraversano diversi luoghi simbolo della storia italiana, per confluire assieme il 18 maggio a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia. Basovizza è stata scelta quale punto di partenza della staffetta del Friuli Venezia Giulia per la sua alta valenza simbolica, evocata dalla presenza di diversi monumenti che ricordano i conflitti del XX secolo. I rappresentanti del SAP hanno deposto dei fiori accanto alla stela eretta dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, in memoria dei poliziotti caduti e infoibati. La breve cerimonia si è svolta alla presenza del vice sindaco del Comune di Trieste, Pierpaolo Roberti, del comandante della Polizia Municipale Triestina, Sergio Abate, e dei vertici regionali del sindacato di Polizia. Al termine la staffetta del SAP con a capo il segretario regionale Olivo Comelli si diretta verso la questura di Trieste prima di partire, la volta di Mestre. È un'iniziativa importante dove sicuramente si ricordano fatti tragici che noi ricordiamo ogni anno ma che in questa occasione ricordiamo con più forza. Questa staffetta che arriva molto lontano è una staffetta che vuole davvero portare lontano anche i valori che sono stati che sono ancora i valori delle forze dell'ordine, insomma il ricordo anche dei tanti che morirono in questo luogo e nei luoghi vicini. Prima di chiudere un aggiornamento per quanto riguarda la cronaca con un incidente stradale che è accaduto questo pomeriggio a Premariacco in via della Chiesa attorno alle 16.30. i mezzi coinvolti sono uno scuterone della Honda e una Fiat 500. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente della motocicletta che è stato trasportato all'ospedale di Udine a bordo di un'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale per mettere in sicurezza strada e mezzi. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale che termina qui. Grazie a tutti voi per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.